Eccolo che è partito Alberto con l'Arctic 6 E così mi ha detto Pino che è un arctic E così mi ha detto Pino che è partito Ma mi sembra molto stabile la vela di Alberto Non faccio più strani Sì esatto E sta salendo L'audio verrà quello che verrà E' praticamente più alto di Antonio Guarda uscendo dritto L'audio verrà L'audio verrà L'audio verrà